A Francavilla Fontana l'abusivismo edilizio rimane una triste realtà. Diversi gli arresti effettuati e diverse le opere abbattute. I giudici sono inflessibili, il rispetto delle norme in primis. A volte però, per stemperare le tensioni, si ammette una piccola tregua. È accaduto nelle campagne tra Francavilla e Ostuni, dove un appartamento indipendente sarebbe dovuto essere abbattuto. Sul posto una squadra interforse composta da carabinieri, guardi di finanza, polizia locale, questure e vigi del fuoco per far valere il provvedimento emesso dal Tribunale di Brindisi. Alla fine però, dopo attimi di tensione e di vero dramma vissuto dalla famiglia che abita la villetta, è arrivato il rinvio. La procedura è stata spostata la prossima settimana, consentendo al proprietario dell'immobile di comprendere, con l'aiuto di un legale, se ci siano possibilità per sanare quell'abusivismo certificato dagli uffici del comune. Secondo la procura di Brindisi, sarebbero state realizzate delle opere in maniera non conforme, prive di autorizzazione e quindi abusive. Una parte importante dell'immobile doveva essere sgomberato dagli occupanti prima della demolizione equativa. Dentro la villetta c'erano due nuclei familiari, tra cui anche bambini. Una donna, accusando il malore, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, già sul posto a scopo preventivo. Sfratto e demolizione rinviati dunque a lunedì prossimo.